Le luci, i sapori, i suoni della festa qui mancavano da un po', eppure la piccola e operosa comunità della Contrada ci ha creduto perché salda è la fede nella Madonna della Fontana, perché forte è il senso di appartenenza alla vita economica, sociale e culturale di quel puzzle chiamato Francavilla Fontana. Torna a Contrada Bax la festa della Madonna della Fontana dopo anni di pausa eppure di attesa per un appuntamento cristallizzato nei ricordi della secolare storia della città degli imperiali. È una cosa bella, l'abbiamo ripresa dopo tanti anni, speriamo insieme a Don Vincenzo di risollevare questa Contrada, di farla rinascere. La gente è bella e buona come le nostre orecchiette e soprattutto genuina. Io penso che faccia parte solo di un discorso di buona volontà, perché basta volerle le cose. Qui la gente questa sera di Bax è come se fosse riesplosa la gioia dopo tanti anni di tristezza. Brutto da dire, ma per tanti anni non si è fatta una festa degna di quella che è l'importanza di questa Contrada. La mia stia la devi passare dalla mia stia, la mia stia la devi passare dalla mia stia.